E' molto importante che una donna, quando si avvicina a questa sua fase della vita, inizi proprio nella pre-menopausa a valutare tutti quei cambiamenti che ci fanno capire che si sta avvicinando questo delicato momento. E se si interviene in questa fase appunto della pre-menopausa con quelle terapie che ci consentono di limitare i cambiamenti negativi che si verificano nella menopausa, noi avremo la possibilità di far sì che le nostre donne possano cambiare nella maniera più fisiologica possibile. Mi riferisco soprattutto anche a tutte quelle terapie che non sono ancora terapie ormonali e quindi impegnative sotto il profilo farmacologico, ma che utilizzando degli integratori ci permettano di rallentare l'invecchiamento cerebrale, l'invecchiamento cutaneo, l'invecchiamento sistemico. Quindi la pre-menopausa è quel periodo delicato che ci permette di traghettare le nostre donne verso la menopausa facendo queste terapie con integratori che fanno sì che i delicati equilibri non sconvolgano in maniera drammatica quello che è l'equilibrio principale della salute femminile.